Alle origini del cristianesimo in Alta Irpinia è stato il tema del convegno che si è svolto nella bazia del Goleto a Sant'Angelo dei Lombardi, che ha visto la partecipazione di numerosi studiosi che hanno analizzato il territorio partendo da fenomeni, popolazioni e culture diverse che trovano un punto di incrocio in Alta Irpinia. Dobbiamo tener conto che il nostro territorio era un territorio attraversato da fenomeni, popolazioni, culture diverse che trovavano qui il punto di incrocio. E questo riguarda anche il periodo pareromano, quello romano, quello cristiano, medievale e così via. Quindi è un tema molto interessante che andrebbe approfondito e avrebbe bisogno anche di sostegno per eventuali ricerche e approfondimenti. Il tema è stato interessante in quanto è stato messo in evidenza l'importanza delle testimonianze storiche, documentarie ed archeologiche che hanno dato la possibilità di conoscere meglio l'origine del cristianesimo partendo da uno studio approfondito condotto da giovani studiosi. Come si è affermato il cristianesimo, quali sono le testimonianze che abbiamo di varia natura, cominciando dalle testimonianze documentarie a quelle archeologiche e quant'altro. E da quello che stiamo sentendo, ecco, ci sono tanti spunti, veramente, e anche provocazioni. La cosa bella è che per questo convegno abbiamo coinvolto studiosi giovani. Sono stati proprio alcuni giovani studiosi che hanno affrontato vari temi che conducono alla nascita e diffusione del cristianesimo in Alta Irpinia. Ho fatto un breve excursus partendo appunto dalle origini del cristianesimo che in Alta Irpinia sono tarde. Secondo diversi autori di storia locale, si riteneva anche che appunto le origini risalivano all'epoca apostolica, cosa che poi, come ho dimostrato, attraverso fonti epigrafiche e altri documenti letterari non è plausibile. Ma il cristianesimo in Irpinia è arrivato in un secondo momento grazie alle arterie stradali, la regina via Arum, la via Appia, che appunto ha permesso, diciamo, la penetrazione della buona novella anche in Alta Irpinia, ma come d'altronde anche nelle altre zone interne. Importante è l'analisi storica dei culti come quello di Santa Lucia a Mura de Santis, come la rappresentazione del sacro nella ceramica popolare arianese. Quello che dobbiamo fare, assolutamente, è cercare di invoiare altra gente a venire nei nostri territori per poter studiare quello che sono i culti, ma anche quelle che sono le tradizioni, l'archeologia, la storia delle nostre zone. Grazie. 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 Grazie.